Oggi è una giornata particolare, abbiamo oggi superato le 100 somministrazioni di anticorpi monoclonali presso la unità operativa di malattie infettive diretta dal dottor Jacobello qui al Cannizzaro. È un bel successo anche perché è il frutto di un lavoro sinergico che è stato realizzato tra tutte le aziende ospedaliere, l'ASP e il commissario dell'area metropolitana, il dottore Liberti, che ha fortemente incentivato questo percorso, che ha visto l'integrazione ospedale-territorio realizzare un obiettivo strategico. Allora non soltanto la vaccinazione, anche una terapia precoce per i pazienti che nelle prime fasi mostrano già sintomi di Covid. L'integrazione ospedale-territorio, il territorio e i medici di base che individuano tempestivamente il quadro patologico, patognomonico per malattia. La indirizzano utilizzando anche una convenzione che noi abbiamo realizzato, ma anche le altre aziende con la Croce Rossa, in modo che il medico di base, individuato il paziente, allerti la struttura ospedaliere, in questo caso il Cannizzaro, la Croce Rossa fa arrivare il paziente in reparto, viene somministrata la terapia, l'anticorpo monoconale, resta in osservazione per poter essere poi riaccompagnato, sempre tramite ambulanza, al proprio domicilio. Ma lì il paziente non viene lasciato solo, viene costantemente monitorato e, qualora le condizioni dovessero avere una evoluzione non favorevole, può rientrare in ospedale per il proseguo del trattamento. Integrazione ospedale-territorio, ecco, questa è un'altra soluzione che abbiamo messo in campo, grazie agli interventi decisi dell'assessorato alla salute, per superare questa fase critica della pandemia. La somministrazione degli anticorpi monoclonali è il risultato di un'azione sinergica, che vede certo l'ospedale al centro della somministrazione stessa, ma che ovviamente è il risultato di un rapporto di collaborazione che ha visto il commissario ad acta dell'area metropolitana, il dottore Pino Liberti, l'assessorato alla sanità, segnatamente il servizio farmaceutico della regione e ovviamente il servizio farmaceutico del policlinico con l'intervento del professore Drago. In questa piattaforma AIFA mettiamo le caratteristiche del paziente, perché il trattamento non è per tutti i pazienti covid positivi, ma soltanto per quelli che hanno dei fattori di rischio particolari. In modo particolare si riferisce la eleggibilità a soggetti obesi con patologie renali, soprattutto dialisi, soggetti broncopatici e cardiopatici, cerebrovasculopatici e con problematiche di immunosoppressione sia primitiva sia secondaria, quindi pazienti con patologie oncologiche, onco-ematologiche in trattamento con chemioterapici.